Poteva avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente il bimbo di due anni che ieri mattina è stato investito da uno scooter in Viale della Repubblica a Capaccio, ora sta bene. Trascorse senza problemi le 24 ore d'osservazione e dopo il lieve trauma cranico che i sanitari gli avevano riscontrato in seguito all'incidente, il piccolo è fuori pericolo. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni e può ritornare a svolgere una vita normale. L'incidente stradale si è verificato nel centro di Capaccio. Il bambino, figlio di un noto avvocato del posto, stava attraversando con il nonno la strada sulle trisce pedonali quando uno scooter che sopraggiungeva a velocità sostenuta l'ha travolto. Il piccolo nell'impatto è stato sbalzato in aria ed è ricaduto rovinosamente al suolo. In stato di shock è stato soccorso dalle persone che si trovavano sul posto, poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Salerno, dove, dopo le dovute indagini cliniche, si è reso necessario il trasferimento al nosocomio di Vallo della Lucania. Sul logo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giulio Presutti.